io sto anche facendo il filmato perché le divise stanno dicendo ops non hai neanche il cartellino, non hai neanche il testino, perfetto il tuo cartellino non c'è, mi vogliono forse sanzionare, non c'è problema io sto facendo quello che c'è scritto qua, ok? tutte le leggi non regole, le regole le seguo a casa mia come questo, lo seguo a casa mia e questo verrà messo per iscritto quando sarete davanti a un giudice senza la divisa quindi fate quello che volete non c'è problema ciao, arrivederci ed ecco i vigili che escono fuori dal mio locale che verranno pure pubblicati procedete procedete pure il mio locale rimane aperto bar al nuraghe aperto e con questo è tutto